I lati oscuri, ma per un economista come me che non ha mai creduto ai neoliberisti, ai neoclassici, per dirla in una formula agli economisti della Bocconi, tutto quello che è avvenuto era già previsto. Iman Mischi aveva previsto questa cosa 30 anni fa. Una ondata di liquidità naturalmente avrebbe provocato tutto ciò che ha provocato dal punto di vista finanziario, sregolando quello che era regolato prima, tutto comincia nel 1989 quando si ammettono strumenti finanziari che sono strumenti di istruzione di massa e derivati che passino non più attraverso le clearing box, cioè degli strumenti di regolazione che aveva la SEC e si lasciano andare nelle cosiddette dark swimming pool, cioè nelle piscine oscure o nelle shadow bank. Tutto questo era previsto. Naturalmente l'hanno lasciato andare, l'euro è anche frutto di questa illusione finanziaria e monetarista. Non ci sono politiche fiscali, ma tutto andava bene. Si pensava che i governatori delle banche centrali e i top manager dell'oligopolio finanziario mondiale nella loro immensa stupidità e comportamento quasi criminale da un punto di vista etico poggiassero su un territorio stabile. Adesso le cose sono venute al pettine. E quindi voglio dire, c'è stata l'esplosione, non solo più la bolla, ma la bolla si è abbattuta sull'economia reale, che aveva già i suoi problemi e i paesi più deboli, come ricordava prima l'amico greco, sono crollati. La questione è molto semplice. Che cos'è che tiene in piedi il sistema? Beh, il fatto che nonostante tutto la Banca Centrale Europea non è così cretina e compra i titoli di Stato italiani e gli altri, perché questo lo fa anche se non lo può dire. Diciamo, la signora Merkel lo sa anche lei, perché deve salvare anche un pezzo delle banche tedesche che hanno i titoli in pancia, hanno i titoli greci, quindi lo sa benissimo. E soprattutto, però, il problema di fondo cosa c'è? E, come si può dire, il sano gregarismo del popolo, che non perde fiducia negli Stati, bene o male, continua a prendere questi rendimenti, voglio dire. Chiaramente non sono ancora come i titoli argentini, ma se non si cambia politica in modo radicale, se non si cacciano gli economisti neoclassici dal Fondo Monetario Internazionale, dai governi, dai ministri... No, i bocconiani li avevano appena messi al governo, però... La cosa, com'è? Dico, i bocconiani al governo li avevano appena messi, tutti dicono che hanno fatto un gran lavoro, però. Sono una catastrofe, certo, rispetto all'uomo con la bandana di prima, sono un passo avanti, ma perché, voglio dire, uno c'ha la cravata, si manifesta bene, non va alle feste bungo-bungo, però dal punto di vista della direzione economica siamo lo stesso, punto. Il signor Monti deve dare dei segnali precisi, chiari, che deve cambiare linea. E la linea è quella, per esempio, per seguire l'approccio politologico del mio amico finanziere qui accanto, però saggio e che non mi sembra avviato verso la strage degli innocenti, ma anzi è la protezione degli innocenti medesimi, che vinca, che vada via, che vinca l'Espede, che vada via una politica, che vinca una politica neokeinesiana, di deficit spending, e soprattutto togliamoci della testa che il pericolo è il debito pubblico.